guardate che toggo sto autobus siamo arrivati adesso da rad e beh abbiamo fatto qualche chilometro siamo arrivati in questo bus è fantastico c'è anche wifi leggere messaggi di quelli davanti stai ascoltando musica aspetto che parte ad accendere la musica perché si spegne tutto e mi rilasso c'è anche la cintura di sicurezza saremo i primi che l'hanno messa fanno fatica pure a scorrere non ne siamo esemplari mettete sempre le cinture di sicurezza non voglio spappolarmi la faccia anche voi bambini a casa mettete le cinture di sicurezza ecco la modalità infrarossi ecco la modalità infrarossi iscriviti al canale Arrivederci Avete sentito che musica il tassista? Fantastico! C'era anche la mia preferita Mandru sa cuoca pluiii Tu furini ma orgulli Hai furato ship a mea Hai furato ship a mea Hai furato ship a mea Mandruuuu E a proposito di musica Famosa per le colonne sonore Dai Dai Grazie 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 Grazie